E' successo nella notte all'incrocio tra via Nillo Palumbo e via Salvador Raiende a Giuliano, dove dei balordi hanno capovolto per gioco l'auto di un disabile, una Fiat 1. Sul posto è giunta la polizia municipale, allertata dai passanti poco dopo le 8 di questa mattina, visto che l'automobile era capovolta su un fianco, ma non aveva segni di incidente. Una folla di curiosi questa mattina ha tornato il veicolo, chiedendosi chi sarà stato a fare un gesto senza senso, che crea solo un danno al possessore dell'auto, senza avere un tornaconto personale, senza contare che l'auto in questione era di proprietà di un invalido, cosa che aggrava la situazione dei ragazzi. Ovviamente sono nate le ipotesi più disparate, da quella di una baby gang a quella più accreditata del gioco, fino ad arrivare persino ad un errore umano su una derapata prima della curva. Chi sarà stato davvero? Probabilmente non lo sapremo mai, ma è possibile che i giovani d'oggi non abbiano di meglio da fare che capovolgere le auto dei residenti? Giuliano è davvero così allo sbando da offrire solo atti criminosi come svago e giovani della zona, come se fossimo nel vicino futuro descritto da Kubrick in arancia meccanica? Questa di capovolgere le macchine è una nuova e discutibilissima moda napoletana. Al vomero sovente si trovano auto ribaltare su un fianco, per gioco si prediligono le utilitarie per la forma e la leggerezza, almeno fino a quando qualcuno non si farà del male sul serio.